Annalena Venini, direttrice del Salone del Libro, siamo qui nell'area dedicata alla mostra che ha curato Non Solo Signorine. Ce la descrive? Questa è una mostra che racconta il lavoro delle donne nel Novecento, quando le donne cominciano a prendersi il lavoro. L'abbiamo fatta insieme a San Paolo che ci ha messo a disposizione il suo archivio di fotografie e abbiamo scelto quelle che ci sembravano più significative, simboliche. Sono davanti a questa perché queste sono le mondine che sventolano il cappello, non perché fosse un lavoro a quei tempi così originale, ma perché c'è questa idea di gioia e di capelli al vento e quindi di forza. Volevo raccontare, volevamo raccontare in questa mostra un cammino accidentato, spesso sorprendente e sempre luminoso. Un Salone del Libro che quest'anno per questa 36esima edizione ha messo le donne al centro. Ha messo le donne al centro, era ora e sarà sempre di più così, perché è giusto che sia così e perché bisogna riportare le donne al centro non solo della letteratura, perché ci sono già tantissimo grazie al cielo, ma anche al centro della storia, non solo la storia presente e futura, ma anche la storia del passato. Bisogna restituire alle donne ciò che è stato tolto loro. 36esima edizione, siamo quasi alla fine, un bilancio. Sono molto, molto, molto felice, felice di questa atmosfera, felice dell'affluenza, felice soprattutto della qualità degli incontri che abbiamo costruito. Sento tante persone contente e io stessa mi sento arricchita dagli incontri a cui ho assistito e vedo tante ragazze e ragazzi giovani.